Quella è una storia particolare, la Calabria non è stata commissariata perché purtroppo sapete era come quel vigilo urbano, vedo il mio amico comandante dei bravissimi vigili urbani di Cortina, vedesse sfrecciare a 200 all'ora in autostrada e non lo può multare perché non riesce a leggergli la targa, perché allora si disse, io una volta feci una battuta credendo di essere spiritoso e disse sì, i conti della sanità calabrese li abbiamo costruiti ricostruiti per tradizione orale e molti hanno sorriso intorno a me. Poco dopo che avevo fatto questa battuta ho partecipato a una riunione seria al Ministero dell'Economia in cui un rigoroso funzionario ha detto stiamo cercando di arrivare a definire i conti per testimonianze certificate, era la tradizione orale. Grazie a tutti.